buongiorno buongiorno a tutti e ben ritrovati eccoci qua di nuovo insieme con una nuova puntata del nostro wicat che adesso ecco carissimi nel pieno tempo pasquale può riprendere come dire il suo andamento dopo esserci soffermati ampiamente sulla pasqua le bellezze anche liturgiche non delle celebrazioni la nostra fede allora riprendiamo vi ricordate il credo allora tutti i punti della nostra fede ritorniamo lì dove eravamo arrivati è tre puntate fa e abbiamo avuto tre puntate sorelle che ci parlavano proprio della pasqua delle sue meraviglie ecco adesso riprendiamo lì dove lì dove eravamo rimasti da da questo punto è lì dove si dice nella professione della nostra fede riguardo al signore gesù risorto dai morti e asceso al cielo siede alla destra del padre poi si dice di là verrà a giudicare i vivi e i morti è questo punto qui della nostra fede molto bello allora ci poniamo così in ascolto le poche puntate che ormai ci separano da dal congelarci ecco insomma così almeno da questa modalità online e poi abbiamo già cominciato le prime comunioni per cui ci stiamo vedendo in modo più più assiduo più bello ecco mettiamole così in archivio e sono piccole chicche che così perlomeno ecco concludono questo argomento diciamo sul quale siamo un pochino abbiamo fatto sosta insieme e diremo ancorché a distanza diciamo una piccola riflessione grazie al nostro yucat che è diventato il wicat e facciamo catechismo sul libro di catechismo insieme e allora diciamo quest'ultima parte con grande gioia vi ripeto siamo nel tempo di pasqua siamo nell'emozione anche no per tanti di voi e sicuramente per tutta l'unità pastorale di queste prime comunioni noi le chiamiamo di pollicino uno tutti a minuzzolini di pane siete più di cento bimbi fra la quinta elementare e la quarta due annate unite insieme quindi una cosa meravigliosa tutte le famiglie eccetera pollicino perché si fa minuzzolino a minuzzolino sei bambini cinque o sei bambini al massimo a volta per permettere nel tendone che ha soltanto 52 posti ecco di partecipare con raccoglimento con con gioia anche con esultanza ai bimbi e ai loro parenti e di averne almeno un pochini per ciasche l'uno è però abbiamo appena iniziato insomma andiamo avanti ma siamo sicurissimamente guidati dal signore ci sembra una cosa molto bella e quindi questo sia proprio l'occasione per dirlo ringraziare le famiglie ringraziare i catechisti è un'avventura è un'avventura appena cominciata ci porterà avanti per otto settimane addirittura a dio piacendo arriviamo fino alla fine di maggio tutti i sabati e le domeniche con questi appuntamenti di pollicino le bricioline messe nelle celebrazioni finché è possibile speciali altre volte e qui si ringrazia allora tutta l'unità pastorale si chiede alle persone magari di scegliere un'altra messa per consentire ecco una celebrazione piena delle comunioni questa cosa andava detta perché fare cateismo è anche rallegrarci insieme gli uni gli altri ripeto ancorché a distanza però delle cose belle e quindi ringraziare perché siamo davvero una famiglia grande una famiglia unita in cui ciascuno cerca di dare il suo contributo e di farlo tutti uniti insieme allora vi dicevo momenti sempre che ci vedono sempre insomma impegnati nell'emozione nella gioia nel rendimento di grazie e nell'affidamento e allora preghiamo insieme e cogliamo l'occasione di questi anche ultimi appuntamenti no che ci che ci coinvolgono in queste piccolissime lezioni di catechismo online per pregare insieme ci affidiamo alla madonna è con tutto il cuore la madonna che porta la gioia in sé della resurrezione dell'incontro col signore gesù e ci ci riporta sempre per mano da lui allora ora più che mai che siamo in pieno territorio di prime comunioni le affidiamo tutte alla madonna al cuore immacolato di maria al suo essere mamma della nostra fede e del nostro essere discepoli di gesù nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen nel nome del padre del figlio e dello spirito santo allora dicevamo di là verrà a giudicare i vivi e i morti argomenti bellissimi ne avevamo già un pochino parlato nelle primissime puntate dei nostri appuntamenti perché eravamo all'inizio del nuovo anno liturgico dicevamo con l'attesa del natale siamo messi davanti anche all'attesa delle cose eterne delle cose grandi si chiamano delle cose ultime cioè il compiersi della nostra vita della nostra vita terrena la venuta del signore gesù che è già venuto nella carne nella povertà della natura umana e che tornerà nella gloria a giudicare si dice i vivi e i morti cosa significa allora tutto questo vediamo un pochino ci stiamo sopra grazie alle domandine anche alle spiegazioni così semplici ecco belle coinvolgenti che ci dona il nostro libro dice allora questo significa gesù verrà alla fine dei tempi quindi c'è una fine dei tempi c'è una conclusione il nostro mondo finirà veramente il cielo la terra il mare tutto quello che vedo tutto quello che è la nostra vita terrena finirà sì ebbene sì e questo guardate ce lo dice anche la scienza gli scienziati prevedono che la terra ancora per 7 8 miliardi di anni poi dopo secondo l'evoluzione che è quella propria dell'universo il sole probabilmente imploderà la terra stessa cambierà la sua struttura sono tante cose molto grandi che però non debbono terrorizzarci non debbono farci paura perché se anche il nostro pianeta come pianeta terra come giusto che sia avrà una fine questo è importante dio non avrà mai fine questo è il bello allora noi tutti siamo fatti per l'eternità e anche il creato lo è anche tutto quello che vediamo il signore dice io farò nuove tutte le cose allora in un modo misterioso meraviglioso ma reale noi attendiamo e siamo in cammino verso la fine dei tempi che diventa il fine dei tempi cioè il compiersi di tutte le cose e il senso ultimo si dice così le cose ultime cioè il senso il significato la direzione che tutto prende perché poi pensare al mondo all'universo che avrà una sua fine sicuramente è pensare anche alla nostra vita anche noi carissimi piccolini o più grandi ciascuno di noi sta camminando come un pellegrino in questa avventura meravigliosa che è il dono più grande che dio ci fa che è la nostra vita però sappiamo che questa nostra vita conosce il suo termine conosce la sua conclusione magari anche nella nella vita piccolina di tanti di voi ci può essere stato un nonno ecco una nonna qualcuno un amico caro e noi sappiamo che siamo lo vedremo anche nelle prossime puntate comunque sempre nella comunione dei santi cioè l'amore non ha fine dio non passa mai l'amore non passa allora siamo in questa dinamica bella in cammino verso la vita eterna deve compiersi un giudizio deve compiersi una una conclusione è dio presente prima dell'inizio dei tempi si direbbe prima alla creazione vi rammentate le prime puntate anche quando finirà la vita sulla nostra terra perché la vita sulla terra finirà nel modo in cui noi la vediamo così come finisce l'esistenza di ciascuno di noi il signore sarà presente ecco allora il suo ritorno nella gloria non dobbiamo temere la fine del mondo perché questo è bello anche importante non ci attende il nulla il niente la devastazione no ci aspetta dio che ci ama e che è già con noi ora io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo che bellezza allora la fine intesa come un compimento come quando in un forno la torta è lievitata completamente ecco ora l'opera è finita perché perché la si possa mangiare si direbbe perdonate l'esempietto un po semplice domestico però la fine della torta è la festa che si fa quando la si mangia e se ne gode anzi è ciò per cui si direbbe c'è stato tutto il lavoro di impastarla di attendere che fosse lievitata ma addirittura se vogliamo andare prima di contadino è asseminato qui grano perché facesse qui chicco che poi diventasse quella farina che quella mamma avrebbe impastato con quelle uova che le galline avevano fatto perché una persona buona le aveva dato da mangiare le aveva accudite governate e così via perché tutto 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 arrivasse lì fino a quando oh è tutto finito è tutto compiuto è anche Gesù sulla croce dice è compiuto ecco allora si fonda un nuovo inizio che sicuramente a nostri occhi di alcuna fine nel senso quando ci troviamo vicini alla morte di una persona cara magari diciamo è compiuta la sua esistenza terrena è finita ma non è finita nel nulla non è un annullarsi senza senso ma è un entrare in una dimensione che è anche un giudizio questo è molto bello Gesù giudicherà i vivi e i morti che vuol dire giudicare è il giorno del giudizio le scritture ne parlano lo abbiamo lo abbiamo negli orecchi nel cuore no anche queste cose lo avevamo visto anche nel tempo dell'avvento che ci prepara in qualche modo anche a questo accogliere Gesù che viene nella povertà di betlemme ma che anche deve tornare appunto si diceva alla fine dei tempi per il suo giudizio il famoso giudizio universale pensiamo a michelangelo che affresca la cappella sistina c'è la creazione dio che crea ad amo e poi tutto il compiersi della storia del mondo fino al ritorno di Gesù vedete in quel gesto potente che cosa vuol dire quel gesto di Gesù sembra che voglia scagliare qualche cosa no è un gesto meraviglioso di chi ha la parola chiede la parola per pronunziare quella parola di amore che salva e che porta a compimento tutte le cose è io sono il principio e la fine dice Gesù lo abbiamo celebrato vi rammentate il cero pasquale le lettere che ci sono incise è Gesù risorto che è principio e fine di tutte le cose cioè senso significato ultimo di tutte le cose che dà una ragione a tutto allora dire che Gesù è giudice significa dire una cosa molto bella che solo dio può fare perché giudicare significa distinguere e la distinzione è vitale è per la vita distinguere il bene dal male dinanzi a dio tutto è nella luce tutto è nella verità ecco allora perché il bene comparirà vi ricordate nel vangelo c'è una parabola che dice in un bellissimo campo di grano che era stato seminato con un seme buono a un dato momento di notte arriva un cattivone un nemico il diavolo che semina la zizzania anche un modo di dire zizzania vuol dire quando tutti si litiga si fa del male la zizzania è anche un'erba infestante che cresce vicino alle spighe mamma mia allora i servi buoni di questo padrone che aveva seminato un buon campo gli dicono ma scusa perché c'è questo male è nel simbolo perché il male nel nostro mondo tu ci hai fatto per il bene noi siamo una cosa buona la creazione è una cosa molto buona l'uomo è stato creato bene da dio perché allora perché il peccato abbiamo visto il peccato originale è la disobbedienza la nostra libertà che ci pone anche nella condizione di poter dire sì all'inganno e allora in quel caso mi lascio ingannare quindi il mio peccato anche personale e poi in generale la condizione misteriosa e reale del male presente nel mondo come risponde il signore lascia che l'una cresca accanto all'altra perché c'è il rischio a volere stirpare da noi il male di tirar via anche bene allora ci penserà dio con i suoi angeli alla fine del mondo ecco il giudizio il momento in cui ed è tutto nelle mani di dio si distinguerà nella luce nella bontà nella misericordia di dio che è un'opera di salvezza un'opera salvifica è si dice di salvezza cioè non un sentimento come gli è buono gli è buono allora si fa andare bene tutto no come è potente questa azione di misericordia pensiamo alla croce non dimentichiamocelo è il prezzo pagato per il nostro riscatto per la nostra salvezza tutto sarà messo nella luce e nella verità quindi il male sarà vinto per sempre dal bene dal bene che emerge viene distinto allora si direbbe giudizio distinzione fine compimento di tutte le cose e dio che giudice sarà un giudice severo sarà un giudice giusto ecco la giustizia e la misericordia che parole grandi bambini tanto tanto grandi rimaniamo semplici rimaniamo umili lasciamoci avvolgere da queste realtà non sono tanto da capire certo sono da accogliere da capire sì da parteciparci con con il nostro affetto la nostra intelligenza la nostra mente ma non basta ancora lasciamoci semplicemente portare da queste verità grandi della nostra fede dire che dio ci giudica significa dire che egli ci vuole giusti ci fa giusti la giustizia di dio è sempre riferita a un'opera di salvezza essere giusto vi ricordate san giuseppe l'uomo giusto significa l'uomo che non commette mai errori oppure che non ha nessuna fragilità umana perché altrimenti non sarebbe un uomo significa l'uomo creatura debole che però cerca sempre la volontà di dio e anche ciò che gesù propone a tutti i suoi discepoli non pensare solo secondo gli uomini seguimi per arrivare a pensare secondo dio un insegnamento nuovo un amore che arriva a dare tutto fino alla rinuncia di sé si direbbe no muori a te stesso metti da parte il tuo io e fa regnare dio non io ma dio nella mia vita ecco allora il giudice colui che governa colui che regna sarete il mio popolo io sarò il vostro dio il dio con noi e asciugherò ogni lacrima dai vostri occhi e ci rallegreremo perché tutto sarà rifondato tutte le cose saranno fatte nuove ecco allora carissimi e questo è importante il vangelo rimane ed è una buona notizia non una notizia minacciosa però ci mette in guardia questo sì e questo è importante nella verità vedete non c'è mai scritto nel vangelo che tutto il male del mondo poi non avrà nessuna conseguenza perché tanto dio è buono no questo non vuol dire allora posso fare il che mi pare no no quindi i despoti gli sfruttatori che commette genocidi o addirittura abusa dei bambini più gravi peccati tutte sta gente che li ha fatti possano arrivare in cielo tutti contenti no la nostra libertà rimane a gesù non interessa di minacciare le persone e le sue creature ma mettere in guardia sì in verità io vi dico che bello tutto questo allora il signore rispetta la nostra libertà prenderà sempre sul serio le sue conseguenze nel bene e nel male ogni nostra azione porta le sue conseguenze è chiaro che ci dobbiamo rivolgere alla misericordia alla grazia di dio che conosce il nostro cuore che ci guarisce che ci risana che ci aiuta nella fragilità nella debolezza ci ammaestra nel darci la forza la luce la santità per scegliere il bene che però poi dopo resta diciamo alla nostra scelta appunto libera una libertà che gesù stesso ci ha conquistato sulla croce allora vedete ascoltare sempre la sua voce avere la sincerità la bontà nel cuore lasciarlo entrare governare la nostra vita significa orientarci sempre al bene e lì dove c'è il bene c'è la vita c'è la vita eterna c'è la salvezza laddove invece se scelgo il male se mi ostino a non volere la salvezza ecco per a forza si direbbe non verremo mai non verremo mai salvati per cui coloro colui che fino all'ultimo non vuole in nessun modo diventare giusto vuole continuare a odiare a essere malvagio a morire a se diciamo in se stesso e contro gli altri non troverà la via per il cielo questa via è gesù stesso che ci chiede solo di essere accolto allora vedete il giudizio la fine di tutte le cose il compiersi di tutte le cose il distinguere il bene dal male è nelle mani di dio il suo giudizio che è misericordia cioè in ordine alla nostra salvezza e rispetta e lascia in piedi la nostra libertà e ci chiama a scegliere sempre la vita scegliere il bene e quindi l'ammonimento bellissimo e vitale che è il vangelo la presenza di gesù nelle nostre giornate che ci chiede di seguirlo e di continuare a camminare con lui ecco di là verrà giudicare i vivi e i morti e se aggiunge il suo regno non avrà fine quindi è per la vita eterna allora sono chiaramente cose grandissime amici ma noi le accogliamo davvero con cuore semplice e piccoli o grandi che siamo sempre con cuore semplice allora lasciamoci da questo appuntamento verso la prossima puntata con un momento ecco così di ascolto che diventa anche preghiera che sono proprio le parole della scrittura quelle che più o meno riassumono tutto quanto si è detto si è detto finora sono affidate all'apostolo giovanni che scrive l'apocalisse la rivelazione le cose ultime e sono proprio le ultime ultime pagine della bibbia le vedete qui no allora come dire contengono una promessa la cifra d'amore sotto la quale si compiono tutti i tempi anche la fine e il fine della nostra vita e allora godiamocelo lo ascoltiamo ripeto ormai puntate non riesco a tenere il conto del tempo ma voi le suddividerete come più vi piace e metterete pause e così via e da una puntata se ne fa due tre quattro alla grande allora sentiamolo e con questo ci salutiamo e ci abbracciamo e vidi un cielo nuovo e una terra nuova il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più e vidi anche la città santa la gerusalemme nuova scendere dal cielo da dio pronta come una sposa adorna per il suo sposo udì allora una voce potente dal cielo che veniva dal trono e diceva ecco la tenda di dio con gli uomini egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il dio con loro il loro dio e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno perché le cose di prima sono passate e colui che sedeva sul trono disse ecco io faccio nuove tutte le cose ecco sono compiute io sono l'alfa e l'omega il principio e la fine a colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita chi sarà vincitore erediterà questi beni io sarò suo dio ed egli sarà mio figlio vedete questa grande promessa consegnata proprio alla nostra fede chi persevererà e fino alla fine nella fede accogliamo tutto questo e continuiamo a camminare come discepoli di gesù allora un grande abbraccio a tutti ci facciamo il segno della croce e ci vediamo alle prossime puntate nel nome del padre del figlio e dello spirito santo grazie sempre della vostra pazienza a presto grazie a tutti